Ben ritrovati al consueto appuntamento con l'informazione del telegiornale di TV City. In apertura la cronaca con l'operazione della Guardia di Finanza, quasi 4 tonnellate di sigarette di contrabbando sono state sequestrate, 6 persone sono finite in manette. Ancora cronaca, dopo gli arresti per usura ieri a Torre del Greco arriva il commento di Luigi Cuomo, presidente del Circolo della Legalità e di SOS Impresa. La lotta alla criminalità non conosce tregua. Poi l'emergenza sanitaria, boom di contagi ieri a Torre del Greco, lieve aumento anche a Torre Annunziata. Numeri in aumento ma non c'è nessuna ricaduta sulle terapie intensive e la sintesi dell'aggiornamento consueto del venerdì del presidente De Luca. In chiusura parliamo della commemorazione dei defunti con l'assessore del comune di Torre del Greco, Giuseppe Speranza. Abbiamo parlato delle modalità di accesso al cimitero e non solo. Questo ed altro. Guardiamo i servizi. 6 responsabili tratti in arresto. 3,8 tonnellate di sigarette di contrabbando sequestrate per un valore di circa mezzo milione di euro. Un deposito e 7 automezzi. Questo il bilancio di un'operazione anticontrabbando portata a termine dal comando provinciale della Guardia di Finanza di Napoli. Sono stati i baschi verdi del gruppo pronto impiego Napoli, nel corso del costante pattugliamento del territorio, a notare attività in corso all'interno di un'area di collegamento tra due grossi capannoni industriali nel comune di Somma Vesuviana. In particolare alcune persone stavano caricando e scaricando pedane in legno su un autocarro con targa bulgara. L'ispezione ha permesso ai finanzieri di scoprire che sotto un'ingegnosa copertura costituita da tondini di ferro e specchi di frangenti erano state occultate 50 casse di sigarette di contrabbando per un totale di 3,8 tonnellate. Il carico era costituito da sigarette marca Winston Blue per un valore di mercato di circa mezzo milione di euro. I contrabbandieri arrestati sono cinque napoletani, tutti con precedenti di polizia e un cittadino di nazionalità kazaka. La lotta alla criminalità nella città e nella provincia di Napoli non conosce tregua. Prendendo atto della brillante operazione della polizia di Stato di Torre del Greco, che ha smantelato un gruppo criminale dedito all'usura nella città corallina, si rafforza il nostro invito alle vittime di usura e di estorsione a denunciare. È sempre più forte l'invito ad avere fiducia nelle forze dell'ordine e nella magistratura, che possono liberare tutti coloro che attualmente sono ancora oppressi sotto il peso della camorra e degli usurai. Sono le parole del presidente del circolo della legalità e di SOS impresa Luigi Cuomo, dopo agli undici arresti di ieri a Torre del Greco. L'operazione è stata possibile, secondo quello che riporta la stampa, soprattutto grazie alla denuncia di una delle vittime, titolare di una panetteria, spiega Cuomo. Oggi i suoi aguzzini sono in carcere e anche a Torre del Greco si respira un'area diversa. Il fenomeno dell'usura è radicato nel territorio vesuviano e stabbiese. SOS impresa è da sempre in prima linea per contrastare questa attività criminale. La denuncia è l'unica arma per liberarsi dalle pressioni della criminalità. In tutti i nostri territori ci sono centinaia di imprenditori vittime di estorsori e usurai, ma oggi è il momento migliore per dire basta. Nessuno resterà solo. SOS impresa è da sempre al fianco di chi decide di rialzare la testa e affidarsi completamente alla giustizia e alle forze dell'ordine, conclude Luigi Cuomo. Boom di contagi a Torre del Greco. Secondo l'ultimo bollettino nella giornata di ieri sono stati certificati 37 nuovi casi di positività al Covid-19 e registrate 10 nuove guarigioni. Muta così il bilancio della 569esima giornata consecutiva di attività del COC. Totale ospedalizzati 12, totale in isolamento domiciliare 114, totale guariti dal Covid 6.794, totale decessi 176. A Torre Annunziata, invece, l'ultimo bollettino parla di tre nuovi casi di contagio a fronte di 40 tamponi processati, con l'indice di positività che si attesta al 7,50%. Non si registrano guarigioni. Sono 97 cittadini attualmente positivi. L'incidenza di nuovi positivi a 7 giorni per 100.000 abitanti nella settimana che va dal 18 al 24 ottobre è pari a 130,58. Sono 4.715 le persone che hanno contratto il coronavirus a Torre Annunziata dall'inizio dell'emergenza sanitaria, di cui 4.524 guarite e 94 decedute. Secondo, invece, il bollettino dell'Unità di Crisi della Regione Campania, nella giornata di ieri si registrano 253 positivi a fronte di 9.655 tamponi effettuati, 7 i decessi. Il report dei posti letto su base regionale parla di 656 posti letto di terapia intensiva disponibili, 17 occupati, mentre i posti di dirigenza disponibili sono 3.160 e quelli occupati 183. Numeri in crescita nelle ultime settimane, ma al momento nessuna ricaduta sui ricoveri ospedalieri. È l'analisi del governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nel consueto aggiornamento del venerdì, che si mostra tuttavia preoccupato, guardando i prossimi mesi. Il Presidente fa il punto della situazione sui contagi e sull'andamento della campagna vaccinale. Siamo di fronte ad una tendenza lenta, ma percepibile, all'aumento dei contagi. Grazie a Dio, siccome abbiamo un numero altissimo di vaccinati, questo aumento di contagi non ha una ricaduta immediata sui ricoveri ospedalieri. E tuttavia è un dato che deve cominciare a preoccuparci. 4,40% delle persone in cui si fanno i tamponi che è positivo. Sul fronte della scuola, dopo il focolaio registrato in un istituto di Qualiano, De Luca sottolinea il rischio di veder crescere il contagio e di arrivare ad una nuova chiusura delle scuole. Se rimangono centinaia di persone non vaccinate, se nelle famiglie abbiamo genitori non vaccinati che contagiano i propri bambini, che a loro volta contagiano i compagni di scuola, è chiaro che noi rischiamo di veder crescere il contagio. e da qui a uno o due mesi rischiamo di essere costretti a richiudere le scuole. Io rivolgo un invito a tutti e a tutte perché oggi ci si attivi per impedire che siano chiuse le scuole. Cioè che ci si attivi per persuadere chi non si è vaccinato a vaccinarsi. La situazione attuale è un po' questa, voglio adoperare, come dire, un'immagine fisica. È come se noi avessimo lavorato in questo anno e mezzo per tenere chiusa la porta e non far entrare il virus. Il fatto che non tutti abbiano accettato i vaccinarsi significa che quella porta, anziché tenerla chiusa, la teniamo socchiusa. La teniamo socchiusa e consentiamo al virus di entrare nella nostra comunità. Quella porta deve essere chiusa, se vogliamo stare tranquilli nel periodo invernale. Se qualcuno decide di abbassare la maniglia e tenere socchiusa la porta, beh, questo qualcuno rischia di determinare un danno immenso. Assessore Giuseppe Speranza si avvicina il ponte di Ogni Santi. Come sarà regolamentato l'accesso al cimitero? Dal 31 ottobre al 2 novembre gli orari di apertura saranno dalle 7 alle 17 di pomeriggio. Un momento molto atteso dalla città perché a Torre, come anche in altri luoghi, ma a Torre in particolar modo, è prevalente il culto dei defunti. Sono giornate che tante persone rientrano anche a Torre del Greco per visitare i loro cari. Per quanto riguarda le norme legate al Covid? Si consentirà l'accesso al cimitero con tutte le misure dovute. Abbiamo ipotizzato un senso di marcia anche all'interno del cimitero, mi riferisco all'ingresso e alle uscite. Certo, non possiamo condizionare il percorso delle persone che si devono regare alle tombe, però un certo ordine si è tentato di dare. Invece per quanto riguarda la viabilità della zona? La viabilità, per quanto riguarda la viabilità, è come gli altri anni. Praticamente Viale Campania, che già ha un suo senso di marcia, via del cimitero sarà completamente chiusa al traffico perché bisogna consentire il traffico pedonale, soprattutto per la sicurezza di chi si rega al cimitero in quei momenti. Riguardo all'organizzazione interna, già da qualche settimana ho chiesto agli uffici dell'Igiene Urmana di raddoppiare il servizio dei bidoncini per la raccolta dei rifiuti all'interno del cimitero. Colgo l'occasione per fare appello ai cittadini e ai visitatori di utilizzare i bidoncini presenti all'interno e di cercare di mantenere possibilmente un po' di ordine all'interno anche della casa eterna. Per quanto riguarda invece la pulizia e eventuali interventi di restyling, come troveranno quest'anno il cimitero, i cittadini d'Ore del Greco? Sicuramente troveranno un cimitero più pulito, più percorribile, sicuramente troveranno degli spazi che un tempo erano occupati da tombe, oggi abbiamo dei marciapiti più percorribili, più ampi e anche più agevoli. Invece per quanto riguarda progetti di ampliamento dei loculi nicchiari? Sono già iniziati i lavori nella parte a destra dell'ingresso principale per l'ampliamento del cimitero dove nasceranno nuovi loculi, nuove urne cinerarie e dei monumenti, credo, a due o tre livelli per chi ne volesse fare domande e fare richiesta, cosa che avverrà, spero, nell'immediato inizio dell'anno prossimo possiamo già provvedere a un bando pubblico per l'assegnazione di eventuali altri loculi. Con questa notizia si chiude anche oggi questa edizione del nostro Tg. Vi ricordo che per info e segnalazioni potete inviare un'email all'indirizzo redazionechiocciolatvciti.it o chiamare al numero 340 6561484. Con questo è veramente tutto, arrivederci a domani. Grazie a tutti i nostri amici.